Buonasera, ben trovati verso le comunali di Salerno duemilaventuno, ospite di eh questa nostra puntata Antonio Camarota, candidato sindaco, parleremo di tanti argomenti, prima però c'è la sigla. Allora, riaccoci pronti a partire con la nostra intervista con Antonio Camarota, salve e benvenuto, grazie Antonio, partiamo subito dall'attualità, insomma questo Consiglio Comunale è l'ultimo che si è tenuto eh venerdì con un po' di polemiche all'interno di quella che è l'opposizione, ma è legata opposizione, no? Eh e ti hanno accusato di essere stato in aula per mantenere il numero legale e quindi per evitare che non passasse il provvedimento. La cosa fa sorridere perché poi basterebbe dire da che pulpito viene la predica ma non è nemmeno questo il problema. Eh la verità è che c'è stata un un si votava un provvedimento, un provvedimento tecnico esecutivo di una legge che serviva a dare appunto alla nostra economia la possibilità di sgravi e io tra l'altro avevo fatto delle proposte che trovavano anche governo in questo provvedimento, avrei fatto, avrei avuto difficoltà a spiegare poi perché come dire non non ho più vocabile, però io ho votato con astensione perché mi rendo conto che il voto è innanzitutto politico e quindi astenuto da parte dell'opposizione vuol dire c'è consenso non alla linea politica ma a quel provvedimento tecnico sì. Nella fattispecie questo problema del numero legale io non l'ho percepito proprio perché non me l'ha tra l'altro fatto notare nessuno, noi in Consiglio Comunale siamo seduti un po' sparsi con questa logica del Covid, siamo insieme ai giornalisti, cioè c'è confusione, quindi non siamo in grado nemmeno di verificare se qualcuno non lo dice il numero legale. Ma indipendentemente da questo non compete critica nonché aggressiva da parte di chi naturalmente vede franarsi il terreno sotto i piedi per motivi suoi. Insomma, da questa parte noi possiamo dire di non aver mai votato De Luca né alle comunali ultime né alle regionali come invece altri che oggi puntano il dito per poi indirizzarselo nel proprio occhio. Noi abbiamo sempre combattuto il deluchismo dal primo momento e questo lo sanno tutti e non abbiamo mai mangiato un piatto di nessun potere a differenza di qualcuno che oggi da questa parte, tra virgolette, vende la fontana di Trevi al turista americano perché di questo si tratta. Noi andiamo invece con serenità alla sanzione del consenso popolare che è l'unico metodo e l'unico criterio di legittimazione di proposte politiche altro che chiacchiere. Fammi fare un po' di ironia, andiamo oltre. Eh però devo dire una cosa, quando poi qualche chiacchiera scivola un po' oltre a altre sedi di metro di giudizio e di giustizia, ma questa è un'altra cosa. Allora, parliamo un po' anche dell'appuntamento con le comunali perché oramai dovrebbero mancare cinque mesi, poco più insomma in attesa di conoscere la data. È stata una settimana quella che si è conclusa, contrassegnata da diversi eventi, rinunce a candidature, soluzioni alternative, tutti che rivendicano un ruolo, Antonio, che è quello del civismo. Ripeto anche un concetto già detto, la bellezza delle elezioni è che veramente ci si purifica e ci si legittima nel bagno del voto e del consenso popolare. La sovranità appartiene al popolo e non a queste liturgie di basso livello, di topolini senza sedie, dove si giocano destini della città di Salerno altrove. Ecco, essere civici significa questo, essere civici significa non dipendere né da Roma né da Eboli, per essere chiari, e avere la possibilità e la libertà di rappresentarsi per le idee che si vogliono portare avanti. E d'altro canto, essere civici non significa non essere politici. Il candidato sindaco deve essere riconoscibile, deve poter dire cosa ha fatto, come la pensa, come l'ha pensata, cosa vuole fare e cosa farà. Non è il coniglio dal cilindro di un mago, quello è un privato, non è un civico, è tutta un'altra storia. C'è dal tuo osservatore privilegiato, insomma privilegiato di uomo che fa politica ogni giorno, c'è questa situazione che riguarda un pezzo del centro-destra, che sostanzialmente ha prima deciso di essere costretto a fare un passo indietro, parliamo di Forza Italia e Lega. Che idea hai? Sono dieci anni e più che io non ho tessere di partito e quindi mi rappresento esclusivamente alla mia città con un atto che qualcuno mi dice di onestà intellettuale prima che politica, c'è di non inseguire altri obiettivi e altri liti che non siano soltanto l'interesse esclusivo e assorbente per la mia città. Posso dire che quando il centro-destra è stato unito su Cavalli Vincenti è stata un'altra storia e mi permetto di ricordare che l'ultima volta che questo avvenne fu proprio alle provinciali del 2009, quando nella città di De Luca e nel suo collegio più forte, quello che espresse Nino Sarostano, oggi consigliere regionale, lui a rappresentare il centro-destra vincente delle unne della città Cavalli fu Antonio Gammarola. Quindi anche qui parla la coerenza e la storia di ciascuno di noi. Altri parlano in regione soltanto di titoli più o meno vari che poi al momento del consenso si infrangono naturalmente nel nulla. E anche qui, ripeto la battuta, c'è chi vende la fontana di trailer turista americano e c'è chi ci casca. Grazie ad Antonio Cammarota, grazie a quanti ci hanno seguito, appuntamento alle prossime interviste con Agenda Politica. Arrivederci.